Cominciamo dalla sostanza. Buon anno a tutti, buon anno alle donne e agli uomini in divisa delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. Grazie per quello che avete fatto e non è un ringraziamento mio personale, eppure vi sono tanto grato. È un ringraziamento di tutto il governo italiano e sono convinto di tutti i cittadini italiani. Voi avete rappresentato un presidio di legalità e di sicurezza e avete ancora una volta dimostrato un grande spirito di sacrificio, di abnegazione che ha rappresentato un punto fermo per i nostri concittadini. Ha rappresentato un elemento di fondamentale certezza perché ogni cittadino italiano, facendo tre cifre, sa di poter trovare in voi un punto di affidamento sicuro. Io ho lavorato ogni giorno qui da questa scrivania, qui al Viminale, per difendere al meglio le buone ragioni di chi veste la divisa italiana. Quante volte ho dovuto affrontare un dibattito pubblico per dire che siamo sempre e comunque dalla parte delle donne e degli uomini in divisa che difendono la libertà degli italiani, la loro sicurezza, il loro diritto a vivere serenamente e con sicurezza nella propria città. Quante volte ho dovuto ribadire, a seguito di una manifestazione in ordine pubblico, che il diritto alla salute e alla incolumità fisica di un uomo che veste la divisa, di una donna che veste la divisa, non è inferiore, non è sottostante rispetto al diritto a manifestare di chi partecipa alle manifestazioni. Bene, da quando sono ministro 14.000 manifestazioni in ordine pubblico, in questo anno 2014 9.000 manifestazioni in ordine pubblico. Grazie a voi per come le avete gestite e grazie davvero per la passione che avete messo. Io ho provato a fare del mio meglio insieme al governo, ho sbloccato delle vertenze che erano ferme, bloccate da tanti anni, e abbiamo ottenuto dei risultati dei quali sono orgoglioso, perché non è un regalo che il governo, che io, abbiamo fatto alle forze dell'ordine, ma era un sacrosanto diritto e abbiamo avuto la capacità e la forza di affermarlo anche nel corso della legge di stabilità. Abbiamo fatto tante cose importanti e le abbiamo fatte insieme, con delle buone leggi applicate alla grande da tutti voi. Mi riferisco ai successi contro la criminalità organizzata, mi riferisco alla straordinaria azione nell'ambito dei sequestri e delle confische, mi riferisco molto alla lotta all'abusivismo commerciale, alla contraffazione, che fa parte del discorso più generale del decoro delle città. Questo è un risultato del quale ci sono grati i cittadini che vivono nelle città. Il mio impegno sarà nel 2015 di battermi sempre di più per realizzare altri obiettivi importanti insieme a voi, sia che riguardino la dignità e la forza delle nostre divise, sia per quanto riguarda delle leggi che rafforzino il senso di sicurezza dei nostri concittadini. Un ringraziamento specifico e particolare vorrei rivolgere a coloro i quali indossano la divisa dei vigili del fuoco in un paese che tra dissesti idrogeologici e rischi sismici vede il lavoro dei vigili del fuoco sempre come un lavoro di trincea. E vorrei anche valorizzare, l'ho già fatto nel corso del mio intervento per la festa di Santa Barbara, quanto c'è di prevenzione perché l'uomo indivisa dei vigili del fuoco, la donna dei vigili del fuoco che si reca nel luogo di una tragedia viene vista e viene ringraziata. Ma quanto lavoro c'è di coloro che si occupano di prevenzione e che scongiurando un evento negativo sono lì, fanno tanto ma poi non trovano il ringraziamento perché appunto non verificandosi un evento negativo, fortunatamente non c'è un luogo dove loro accorrono e vengono ringraziati. Grazie ancora a tutti voi, io vi auguro veramente delle festività, una conclusione di queste festività che sia pacifica e serena e che regali alle vostre famiglie tutto ciò che è nel cuore delle vostre famiglie e di ciascuno di voi. Mi auguro che il 2015 sia migliore ancora del 2014 e intanto io vi ringrazio ancora per quanto fatto in questo anno e vi prometto il massimo dell'impegno mio e di tutta la squadra qui al Viminale per sostenere le vostre buone ragioni e insieme alle vostre buone ragioni il diritto, le libertà civili, le libertà e soprattutto il diritto alla sicurezza di tutti gli italiani. Grazie e buon anno ancora. Grazie. Grazie.